SIGLA Voglio farle una domanda, Chris. Sarebbe sorpreso se le dicessi che la marina le attribuisce più di 160 uccisioni. Pensa mai di aver visto cose laggiù o fatto cose che adesso rimpiange? Io non sono fatto così. In che senso? Non te lo dico abbastanza, sono fiera di te. Sei un padre stupendo. Non la preoccupa questo episodio? Cosa può succedere? Sono pronto a incontrare Dio. E a rispondere di ogni singolo sparo? Che cazzo fai? Puttalo via subito. Quindi sei in Germania o dove? Sono in America. Sei qui? Ma... che stai facendo? È che mi serviva un attimo. La cosa che mi tormenta sono quelli che non ho salvato. Ehi! Vada subito da mia figlia, per favore! Sono pronto. E sono pronto a tornare a casa. Ho ecco qui da! Ho ecco qui da la mia figlia! E vai farlo. E vai la mia figlia. E vai che faccio un attimo! E vai.